Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Oggi come vedete sono su CS e sono in su CS appunto perchè voglio dirvi perchè sono mancato in questa settimana E cosa è successo per... Cosa è successo in questi giorni insomma Anche ragazzi dicevo Sono mancato in questo periodo perchè ho avuto una nuova scheda video e anche uno schermo nuovo Quindi diciamo che la qualità dei gameplay sarà migliore a differenza di quelli vecchi Semplicemente anche per il fatto dello schermo che faceva cagare non era colpa della scheda video in quel caso Però grazie ora alla nuova scheda video io posso fare gameplay su giochi come CS, League of Legends e altro Perchè comunque nonostante registra faccio come vedete anche dal gameplay sicuramente lo vedrete sopra i 100 fps Insomma è tutto al massimo Ovviamente CS non è un grande gioco quindi non è un problema Poi che altro ragazzi mi dispiace che non ho visato di questa cosa però comunque mi sembrava un po' scorciante fare un video su un gioco Cioè fare un video in cui dicevo semplicemente mancavo per... perchè dovevo fare... dovevo cambiare la scheda video insomma Quindi sembrava un po' diciamo... mi... così così questa idea insomma Ma che ragazzi dicevo un'altra cosa importante E' che tra un mese e qualcosa io dovrò trasferirmi per una nuova vita insomma Che mi trasferirò al nord sia per lavoro e per quanto riguarda la mia economia che non è messa per niente bene insomma Abbiamo problemi comunque come si sa al sud si soffre un po' di più Questi problemi Quindi purtroppo io qua non riesco a trovare lavoro Mi sono diplomato e un diploma per questa città Per bellezza insomma Quindi diciamo che in quel caso lì avrò più possibilità di trovare un buon lavoro e di cambiare comunque la vita in meglio Spero ragazzi che questa mia assenza... Uh bellissima la doppia che ho fatto Bene ragazzi spero che questa cosa sia un po' chiarita per quanto riguarda la mia settimana di... di zero video e anche il resto Più che altro ve lo dico anche... anche adesso Potrebbe essere che io per maggio quando mi trasferirò le prime due settimane La prima o due settimane... massimo due settimane non farò gameplay perchè il tempo che il mio computer verrà spedito e il resto Ci vorrà un po' di tempo insomma Per il resto ragazzi spero che sono stato chiaro veramente in tutto e... Comunque mi sto dimostrando che per quanto riguarda i video non... non mi fermerò a fare gameplay su... Sul mio canale youtube Forse se... spero almeno dove andrò a vivere insomma ci sarà la fibra Potrò fare anche le live Lo spero tanto perchè comunque però mi piace tantissimo fare le live per quanto riguarda CS, League of Legends Quindi qui almeno questi giochi li porto lì Questi giochi da genere comunque fare una competitiva sia su LOL che CS anche altri giochi Portarla sul canale youtube 10 minuti e fare 10 miliardi di dettagli mi sembra un po' eccessivo Per quanto invece per il resto comunque continuerò il gameplay di altri videogiochi e invece questo... Per quanto riguarda questo gioco le cose... cioè per quanto riguarda youtube scusatemi ho sbagliato il termine... Continuerò ovviamente il gameplay come Distraint, Brulal, Astronir, il gameplay con degli amici, con i giochi di strategia o qualsiasi gioco che comunque posso portare tranquillamente senza... Da questo guarda si mette il più lontano possibile E poi non l'ho capito una volta però va bene ma dopo... questa mappa fa schifo un po' Mi capito neanche questa mappa orribile mentre gioco faccio il mio gameplay Ma che palle... sempre sfortunato sono Diciamo... non spesso Oh non so come l'ho ucciso Caffacca ho detto... Avevo qualche dubbio di come era morto quel tizio Comunque ragazzi... Dai ragazzi adesso godiamoci il gameplay Spero di aver detto tutto comunque spero... Che anche per voi è chiaro questa cosa quindi tranquilli Odio quest'arma! Il Nova fa schifo ti giuro è l'arma che odio di più Quando il P9... Il MP9 è lì come... come si chiama Oddio! Ho deciso così mirando... Che non c'era bisogno Dove sono? Cavolo! Volevo fare il no scope così a caso Diciamo che... Vediamo se riusciamo ad arrivare... Ho visto che la partita comunque era iniziata... Ti togli davanti al cazzo! Ho visto qualcuno da lontano? Cazzo! Io non so giocare con la WP ve lo dico È la mia peggiore arma di sempre Questo se ne va qua giù! Voglio togliere quest'arma di merda! Porco... Ormai che non lo veste di merda! Odio! Il fucile! C'è lo... Lo sniper! Cavolo! È odioso quell'arma! Non la sopporto! Comunque ragazzi! Ci vediamo la prossima volta! So che questo video è piccolino e ho dato solo le mie spiegazioni Ho fatto un gameplay a caso! Infatti per questo ho preso CS e ho fatto una corsa alle armi a caso! Giusto per! Va bene ragazzi! Ci vediamo la prossima volta! Spero che è tutto chiaro! Ciao a tutti! Sì... Quindi... ... Grazie a tutti.